Buongiorno e bentornati nei nostri magazzini di Cambiago per il consueto appuntamento con le novità settimanali. Oggi 8 nuovi articoli che andranno in pubblicazione la prossima settimana, il prodotto da indovinare e un prodotto in promo. Approfitto appunto parlando di promo che per ricordarvi che fino al 24 di giugno sul nostro sito tantissimi prodotti di antiquariato e modernariato in promozione al 30 e 50%. Pensavo oggi di fare questa cosa, di accompagnarvi in un viaggio temporale, quindi partiamo dal 1830 circa e arriviamo fino alla fine degli anni 70, un progressivo fino ad arrivare alla fine di quell'epoca. Dove partiamo oggi? Da questo divano a barca. Eccolo qua che ce lo inquadra Giada. Allora, divano a barca Luigi Filippo, quindi dell'Italia della prima metà del XIX secolo, epoca Luigi Filippo, quindi tra il 1830 e il 1850. Il nostro primo prodotto, siamo il più vecchio di oggi diciamo. È in mogano, poggia su piedi a sciabola e presenta questi montanti con intagli fogliacei. La seduta e lo schienale sono imbottiti e foderati con un tessuto rigato. Sono presenti anche due cuscini, appunto dove l'ho appoggiato prima. Le misure sono 90 di altezza, 194 di larghezza e 61 di profondità. L'altezza della seduta è 45 centimetri. Vi ricordo sul sito, trovate sempre, ve l'ho già trovato magari nel precedente video, ma per chi è nuovo lo ricordo, trovate sempre la spesa di spedizione inclusa. È una spesa di spedizione inclusa a bordo strada. Eventualmente se avete bisogno della consegna al piano mi scrivete e ve la quotiamo. Dove potete scrivermi? Su WhatsApp 351 690 4263 o sulla mail assistenzaclienti.chioccioladimanimano.it Vi ricordo anche di mettere un like se vi piace questo video e iscrivervi al nostro canale. Giada, visto che siamo qua, approfitterei per decretare subito il vincitore dell'indovina il prezzo. Il divano da indovinare era questo. Il suo prezzo, lo svegliamo, è 690 euro. Si è avvicinata Antonella Maceroni con 400 euro. Quindi adesso la contatteremo su YouTube per appunto avere questo buono da 100 euro spendibile su 500 euro di spesa. A fine video ci sarà il nuovo prodotto da indovinare, quindi rimanete qua. Ah, il prezzo era 1.170 euro. Nei ricordarvi che tutti i prodotti che vedete sono acquistabili e quindi qualsiasi prodotto mi scrivete anche per informazioni su eventuali restauro e spedizioni sul cellulare o sulla mail. Passiamo al secondo articolo che è questo dipinto, ritratto maschile. Facciamo un salto in avanti di circa 50 anni perché siamo nella fine del XIX secolo. Tra il 1880 e il 1900 è una tecnica mista su carta e presenta appunto questo ovale di un giovane uomo il cui volto e i capelli sfumano nei colori pastello dello sfondo. Pare un tutt'uno con la sua figura, lo sfondo. È un'opera presentata in cornice coeva. Le sue misure sono 74 x 65 cm di profondità per un prezzo di 300 euro. Prima di proseguire con il nostro terzo articolo e percorrere altri 20 anni circa, arrivando all'inizio del 1900, vi ricordo che noi abbiamo due negozi, uno a Cambiago e uno a Milano. Sono aperti a Cambiago dalle 15 alle 19, il martedì e il giovedì, oltre a sabato e domenica con orario continuato. A Milano invece lunedì dalle 15 alle 19, da martedì a venerdì 11.13, 15.19 e anche lì sabato e domenico con orario continuato. Ma se voleste prendere appuntamento, magari siete liberi alla mattina prima di andare al lavoro o in pausa pranzo, mi contattate e prendiamo un appuntamento anche fuori orario negozio. Quindi passiamo al terzo articolo, che è qui sotto, che è questo. Pannello decorativo orientale dorato e intagliato con fitti motivi vegetali e una coppia di colonne che si vedono verso il centro. Tutto ciò inquadra il vano centrale. Sullo sfondo c'è una cassa panca. Le misure sono 70 di altezza, 87 di larghezza e 45 di profondità per un prezzo di 380 euro. Siamo nei primi anni del Novecento, il quarto articolo di oggi è il più interessante di sicuro, che è questo ebuliometro. E voi mi direte che cos'è l'ebuliometro? Non lo sapevo neanche io. Questo è un ebuliometro di Mulligan dell'Europa dell'inizio appunto del XX secolo. E a cosa serve? Misura, uno strumento per la misurazione, del grado alcolometrico del vino. Quindi un oggetto assolutamente anche solo sfizioso da avere a casa. Le misure sono 40 di altezza, 30 di larghezza e 8 di profondità per un prezzo di 200 euro. Ci tuffiamo a piepari negli anni 60 con questo pezzo di design. Un music chair che arriva direttamente dagli Stati Uniti, di produzione Lico, con base in metallo e scocca in materiale plastico bianco. L'imbottitore è in espanso, con rivestimento in tessuto nero. Ha un impianto stereo integrato, ce lo può confermare già da che questa settimana ha lavorato tutto il tempo qua. Talmente comoda che si è piazzata qui a lavorare. È in buone condizioni. La sua altezza è di 135, la larghezza di 99 e la profondità di 41 centimetri. Il suo prezzo è 2100 euro. Siamo sempre negli anni 60 per presentarvi due sedute di Ennio Fazzioli per MIM. Eccole qua. Sono sedi e girevoli da ufficio, con scocca in legno curvato, sedute schienale con imbottitura in espanso e rivestimento in pelle. La struttura e le razze sono in metallo, presentano il marchio della manifattura, qui dietro, MIM di Roma. Le misure sono 76 di altezza, 65 di larghezza e 64 di profondità. Le ho provate poco fa, sono veramente comode. Il loro prezzo per la coppia è di 1400 euro. Siamo negli anni 70, quindi avvalziamo ancora di qualche anno e nell'area tappeti, qualcuno l'avrà già vista nei precedenti video. Giada ci sta facendo vedere che abbiamo rimpolpato gli scaffali perché erano stati saccheggiati nei primi mesi di questo anno. Vi presentiamo questo tappeto, che è un tappeto Shiraz, anni 70, di produzione iraniana. È in lana, a nodo fine, e la sua fabbricazione è manuale. Ve l'abbiamo aperto un pezzettino perché le dimensioni sono abbastanza importanti. 3,28 m per 2,57 m. Vi ricordo che possiamo procedere al lavaggio o alle eventuali piccole riparazioni dei tappeti che vedete. Le sue misure le ho già dette. Il suo prezzo è di 340 euro. Ultimo articolo, ultimo piccolo passo in avanti, siamo appena dopo gli anni 70, per questo centrotavola in argento. De Giovanni, Milano. Metto giù, guarda, già da velo in quadra. È in argento sbalzato, con decoro a volute fogliace e fiori. All'interno c'è questa elegante vaschetta in vetro blu. Sono circa 300 g di argento. Le misure sono 9 cm di altezza, 20 di larghezza e 16 di profondità. Il suo prezzo è di 220 euro. Oggi il prodotto da indovinare è un abito vintage. Eccolo qua. Giada ce lo mostra. È un abito scimisi a righe, taglia S42, di Juanita Sabbadini. Un abito cocktail di questo atelier milanese, nello stile scimisi anni 50. È realizzato in crepe di viscosa a righe azzurro e bianco, con grandi bottoni in madre perla. Quindi vi chiediamo, secondo voi, qual è il prezzo. Lo faccio vedere anche così. Scrivetemi o sul cellulare, ma preferibilmente commentando sotto questo video di YouTube. E settimana prossima daremo appunto il nome del vincitore. Siamo qui con il nostro leopardo in ceramica per farvi vedere questo mobile che è in promozione adesso. Vi parlavo delle promozioni al 30-50% di antiquariato e modernariato. Questo mobilone di Mario Wender è una produzione del 1961 per una commissione privata, quindi fatto proprio apposta. È, come vedete, scomponibile, utilizzabile anche tutto in un'unica soluzione. È in questo momento in promo, da 5.500 euro, scontato del 30% a 3.850 euro. È un mobile da non farsi scappare. Vi ricordo, prima di salutarvi, i miei contatti, 351-690-4263 o assistenza clienti, chioccioladimanimano.it. Ci vediamo alla prossima!